Un autobus delle linee urbane dell'azienda per la mobilità di Catanzaro è stato distrutto dalle fiamme di un incendio scoppiato per cause che sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti o intossicati a bordo del mezzo che al momento dell'incendio stava transitando in un quartiere periferico e lontano dalle abitazioni della città. C'era solo il conducente che, accortosi di quanto stava accadendo, ha accostato il mezzo e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e due autobotti che sono riusciti a spegnere le fiamme. Il traffico veicolare è rimasto bloccato sulla zona per tutta la durata dell'intervento.